Sono 40.000 gli italiani affetti da spondilite anchilosante, malattia infiammatoria cronica articolare che di solito colpisce i giovani trentenni e se non trattata causa un progressivo irrigidimento della colonna vertebrale con gravi conseguenze sulla vita lavorativa e sociale. L'Associazione dei Malati Reumatici promuove campagne informative per coinvolgere di più i pazienti. Il paziente potrebbe essere molto più collaborativo anche con il medico di medicina generale e dire beh guarda io so che se ho un dito gonfio per tanto tempo, se ho un dolore alla mano, se ho male a un ginocchio piuttosto che a un gomito sento questi dolori, forse il reumatologo è lo specialista più giusto per me. Per cui parlarne a tutto tondo significa fare una comunicazione molto semplice anche per pazienti che vedono semplicemente un'immagine però che riescano ad arrivare al più presto allo specialista. All'ultimo congresso EULAR che si è tenuto in streaming si è parlato dell'importanza della diagnosi precoce ma anche delle nuove terapie con farmaci biologici che possono ridurre e in certi casi azzerare il dolore alle articolazioni. L'upadacitone è un inibitore selettivo del GEC1 prevalentemente e di conseguenza questa sua peculiarità lo rende ancora più invitante nella possibilità di trattare i nostri pazienti. La somministrazione orale, la monoterapia possono essere sicuramente dei vantaggi per l'utilizzo di questo farmaco e comunque è un farmaco importante che ha dato da studi scientifici anche di fase 2 e fase 3 non soltanto dei dati di sicurezza ma anche dell'efficacia.